Buonasera, 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 ciao, 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 ciao. E invece Luca? Luca, ecco, buonasera, 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 buonasera. Buon lavoro! C'è Anna. è vicino a Monza lei è stata la responsabilità di questo esperimento che avevo lato un brasiliano un brasiliano non solo per applicazioni spaziali ma anche per le caratteristiche e il testo a picciato? si, a picciato allora, se voi la guarda del termine quindi è la roba responsabile di sostegnare una roba di corpo mi stai nella stanza all'interno delle fauce grazie